Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Mizzar e oggi siamo tornati di nuovo su Super Seductor Dopo aver fatto una ragazza in strada e seduta la ragazza in strada con un 48% che tutto sommato non è malaccio Questa volta proviamo ad approcciare due ragazze in un bar, quindi non uno ma ben due Ma prima, sigla! Ok ragazzi, eccoci qui nel vivo dell'azione Con il nuovo look Con il nuovo look, tra l'altro nuovo look pronto per somigliare al nostro protagonista Come romperai il ghiaccio? Allora, chiedi loro se parlano di te, dicono di no, chiedi perché no Chiedi loro se sanno cosa ti piace di un ragazzo, la risposta è... Ovviamente Il tuo guai Chiedi loro di dare a scegliere un regalo per la tua amica Dille che la collega dalle tempi dalla scuola Furtivamente esce da dietro al divano Sì, proviamola a dire, magari fa tipo stile fantasmi, vediamo In questo posto? Why not? Oh no! Cos'è sta? Let's just give it a chance, we will have a drink and... Sì! Sì! Wow! Ho pervertito! Wow! Here he goes Get out of me! How are you going? Get out! Get out! Forse era bello del cazzo Dov'è essere strano, è proprio un bello Ma nel gioco... Cool! Well done! Well done for choosing the creepiest choice in the game D'accordo, vabbè dire che la C credo sia troppo... Proviamo con nulla è Siamo cercando di essere un po' più onesti oggi, dai! Ok I wish you would go for a place Hi girls, sorry excuse me Can you help me with something really quickly? Okay Yes, ok, good ok, ok What it is, is tomorrow is my best friends birthday And she's a girl And she looks kinda similar to you Kinda stylish and stuff She loves fashion So I wanna get her something You know something to do Like jewellery Or clothes Stuff Do you want to buy her a place? No no Yeah, yeah Yeah, yeah Ma che ha qualcosa di molto cool? E' vero? E' vero, sì! Ma poi guarda le vostre ragazze! Come gift cards? Guardami! 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 Questo è il punto di vista di opinione di opinione. Questa è la posizione. Questa è la posizione. Questa è la posizione. Questa è la posizione. E se vuoi usare la posizione, o se vuoi usare la posizione. E se vuoi usare la posizione. Allora... Ringraziali per il così richiedi loro nome. Approfondici l'argomento. Direi là. Altrimenti, scusciò. Sì, esatto. No problem. Mi nome è Richard, Grazie a te. Buongiorno. 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 È vero. Buongiorno. Buongiorno. e una cosa bella di farlo è di introduzione e ottenere i nomi. Come si conoscevano? Uhhh, da scuola. Da scuola? No, da scuola. No, da scuola. No, no, no. Ok. So, erano in la stessa classe? Uhhh, no. Studi diversamente. Ok, let me guess. So, I think that he studied fashion and I think he studied drama. Is that exactly right? No, opposite. The opposite. He studied fashion and she studied drama. No, no. I studied economics. Yeah, I studied business. Yeah, so now has nothing to use drama and fashion. Not really. Not really. Allora, fai imparare con il business e schiatra le gambe. Ok, dettagliamente descrivi il tipo di ragazza che ti piace, chiedi quali sono i suoi moduli preferiti. Moduli? Moduli. Vabbè, qua ragazzi dobbiamo andare ai... forse i modi, sì, dobbiamo andare ai YouTube. Di che è una cosa carina e molto più facile di una vera laurea in matematico scienze. Madonna, le prime tre mi sembrano un po' troppo delle materie difficili. Accusa di essere del materialista. No, madonna. Di che il mondo sarebbe migliore senza soldi inizia a contarlo. A contarlo. A cantarlo. A cantarlo, scusate. Sì, dai, la D. No, ok. No, prima vai cerchiamo di lasciarci la biffa dei complimenti per cercare di potere difficili. Ragazzi, dobbiamo portarceli a letto. Mi piace così, sai? Perché molte persone facendo, non lo so, alcuni semplici e semplici, ma fare un business è davvero bello. Mi piace. Sì, ma è una cosa più complessa di fare qui. Sì? Io credo. Quindi, pensi che molte ragazzi in questo mondo studiano business? No. Non credo. Credo che studiano Instagram. Oh, certo. Sì, non lo so. Hai fatto bene alla università? Hai fatto bene? Sì, era bene. Sì, è bello. Sì, è bello. Ok. In interazioni vogliamo calciare la validazione, dicendo che, «Well done, è che la bifa è molto meglio». Con cose che sono semplici o difficili. In questo caso è qualcosa che hanno lavorato molto sulle, è un'arcizionamento. Quindi, come non dire «Well done», e dare loro una validazione per questo. Quanto tempo avete gestito? È così lungo. Sì, 40? Sì, 40? Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E quindi, io credo che lei è un'azzescozza ti. E io credo che lei è la straviata, e io credo che lei è un'azzescozza. Quindi lei è un'azzescozza. Si è un'azzescozza. Cosa è? Sì, sì. Sì, è un'azzescozza. Sì, a volte. Sì, a volte. Sì, a volte. Ebbè! Chi ha buoni consigli? Chi ha problemi o chi ha problemi? Però è bruttissima. Siamo ragazzi, sempre abbiamo problemi? Sì, sì. Ma lui ne vuole entrambe, penso. Ma lui ne vuole entrambe, penso. Ok, cool. Non è vero. Non è vero, non è vero. Allora. Fai loro il test dei migliori amici. E qua credo che se facciamo questa qua, rischiamo di metterle una contro l'altra. Guarda la ragazza che ti piace negli occhi, e dire che hai degli occhi bellissimi, e qua si esclude una e l'altra, ti guardano male. Chiedo che il leader è anche troppo... ...cattiva. Chiede la mia di lasciarmi solo per un po'. Dai, caspita. Questo poi tutto e quattro un pochino... No, secondo me la C. Forse la A, però anche la C, però... Dai, per me la A. Tu la C? Io non lo so. Dai, dai. La B. Proviamo le tinte. Ragazzi, vogliamo raggiungere un compromesso. A, B o C? C, va. La mia ragazza, vai. Iscriviti al nostro canale? I'm a fattigli. Sì, ma quando mi sono vicino, i sono mai spiegati. La mia ragazza ha piaciuto. Oh, questo è lato. Non ho mai visto, l'altro. Sì, in realtà ho visto. Molti volte. È così. Ok. Beh, è vero. Sì, è vero? Beh, magari, non lo so. Lei ha fatto con noi che ha detto che ha seguito tanto tempo. Non pensi di qualcosa di diverso. E quindi? Allora, fai la scusa. Allora. Hai già fatto il test di best friends? Hai già fatto? No. Allora, ora facciamo ora. Sì. 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 Che shampoo usate. Ah. Hai già fatto i best friends test. Perché i best friends comunicano inconsciente. Ah, è proprio un psicologo questo. Se le persone sono molto buoni, hai solo fatto la volta. Se le persone sono davvero buoni, loro sempre guardano, e poi, vengono le risposte. Ah, ok. E se non eravessi buoni, le risposte risposte direttamente. Ah. Ma dai, è giusto osservazione. E questo è il senso? È solo il look in gli occhi, che si comunicano molto quando si conoscevano molto bene. Non prendere l'attention a questo. Ah, prendere l'attention. E' davvero vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Ok, lascia. Bingo! Un'altro le parole, è una pronta per la PUA. Se la mano si studi, è qualcosa che potresti usare in bar e club. Io ho visto che si funziona tutto il mondo. E' solo una pronta. E' unaica pronta, in alcune volte, per quanto riguarda, fare qualcosa preparato. Ma se vuoi garantire diventare conversazioni con ragazzi, e attenzione di due delle cose è un modo migliorale di prendere leaidette sociali e di averci conforto di parlare e di più. che avete fatto prima di venire? andiamo per dinner! ah, dinner? dove andiamo? in Italia? no, non so mi sembra che sia più facile sì, come brokers e fratelli bravi, bravi, pure a me piace chiedi loro cosa hai fatto non l'ha appena, non l'ha appena ok, sì, sì di che anche tu non ti prendi cura del tuo aspetto fisico sì, perchè non ho detto che mai ah, che vuol basturare, sì e quindi questo secondo me no, non è appena che troppo che schifo diranno dire che a piacere diversi non va bene ma è anche un bene che lì metta qualche così bocca doppio senso proprio a... scherza e dire che è un po' incongruente dirò che se vengate proprio a comincerle a diventarlo, no allora, secondo me o la A o la B dai, A tu? A A a me anche l'amore 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 12 dici ah, pensai che si stanno annoiando io andavo a quella altra stessa ho la playstation bravo, bravo oh, Assassin's Creed non no 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 se ah si fino adesso, ma non vedi che non c'è più attenzione da partire, mi sceglie tutto questo per sapere che hai pistacchi in coccura e si forse perché tipo una via di mezzo, cioè diciamo che giusta però potevamo fare meglio quindi si, quindi allora la ragazza che ti piace ignora la sua amica, quindi lui forse no, dai un po di attenzione alla ragazza che ti piace si secondo me la pena, perché poi è troppo e dici che cazzo a lui fa la pena, perché ragazzi secondo me lo scopo è portarsene tutte in due quindi b questo è il motivo che non è il migliore corso di attenzione, perché ti vuoi capire le ragazze per capire qualunque di loro ti piace come ti piace? come ti piace? come ti piace? io piace danse non ti dicci di questo cosa hai detto? io piace danse ok, che altro? e io ando in giro molto ok, e come ti? oh, ho un'interesse, ho un'interesse, ho un'interesse, ho un'interesse, ho un'interesse, ho un'interesse e io anche mi piace giocare con il mio canto allora, che direi se intende sesso col cane? ma no, ma che cazzo non può ragazzi, come mi sono fatto di questo gioco? ragazzi, con i pervertiti incredibili, eh c'è perché ti chiedi i pervertiti? ho capito, ma sesso col cane cioè, sarà vietato in quanti stati come piccionina col cavallo scusa questa cosa si sa bene no, vabbè direi che ti piacciono i combattimenti tra cani no, qua hai troppa violenza di che è dolce e che le persone che hanno gli animali sono in genere persone migliori e questa ci può stare direi un pei questo è davvero un doppio senso questo è un doppio senso vai, no, dobbiamo fare gli onesti, quindi dai, la b questo è interessante questo è interessante e è vero 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 se hai ragazzi Mi ha fatto un complimento. E' molto bella. E' molto bella. Grazie. Sì, dai. B, B, B. Ecco, ho una grande domanda. Onde ti vedete in 5 anni? Oh, è come una domanda di intervista. C'è il preferito che ti tocca molette? Sì, è come una domanda di intervista. Non in una bar. Ok, ho una domanda di intervista. Onde ti vedete in 7 anni? C'è il momento in cui ti vedete? D'accordo di questo? Il futuro? No, non penso che non. Oppure, non c'è la shop. Non c'è la shop? Non c'è la shop non c'è la shop. Non c'è la shop. Dove technicians come faccia la shop? Non c'è la shop? E' una domanda capabile con una younga. Non c'è la shop. Non c'è la shop. Non vede più di che la che c'è la sporta. Beh, in segnale la step di squat. Non in ogni certo che voi. Ok, mi voglio la tua spazia. E allora, sempre invece. che altro? io avevo giocato il basket quando ero in collega ma io ero in collega è buono anche? sei la NBA o non hai mai fatto? io avevo giocato il basket ma ho il mio lavoro adesso e ho fatto molti volte che lavoro fai? brava e dove sta? ah no forse ci lasciamo giocata quella qua quindi fai il test del campo di fragole mettiti in mostro io so quello del campo di fragole sei d'accordo? si hai come test psicologici? ehm non lo so non lo so è interessante non lo so hai fatto questo il campo di fragole prima non provi questo non parlare mai non parlare mai ma faccio quindi chiunque le ocche e immagina che sei in un campo di fragole e poi avanti vedete un campo di fragole e mi dico c'è un campo di fragole quanto alto è il campo? dimmi con le mani ok 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 quante fragole ci sono? ok 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 quindi adesso vi racconto cosa significa molto interessante la prima parte è la sua barriera che è la sua barriera a barriera a barriera a barriera come esterna perché le fragole allora è la sua barriera è la sua barriera è una barriera una barriera sull'aspetto quindi faccio se è la sua barriera ma il numero di struberni che hai è il tuo appartamento che segue Oh, che Todd! Ah! La prima cosa di fare alla corsa e poi è un bambino che non haorto se e poi un bambino che ha un po' struberi ma tu hai? Cosa hai tutti i nuovi Dice che li hai? Oh, guarda! E poi la finalità di fare il mantieno dopo il sinistro quando la farmER non lo so Mi dispiace! Sì, scusa! Di patrio! E tu dice che sono faiate! Sì, sei faiate dopo il sinistro, è normale Sì, è così fatti. Sì, è perfetto. Sì, è perfetto. Penso che è stato un testo. Psychomodica test win. Wow! Interessant. Se volete volerci a questo, è una cosa che funziona. È preparato, quindi non è ideale. Non vogliamo che non vogliamo solo insegnare un sacco di cose e ripetere. Ma se si trovi in una situazione che non si tratta, che non si tratta, parlando con una ragazza che non si tratta, perché non si tratta? È molto interessante. E puoi sempre dire che è un test psicologico che vedi online, certo? Cosa facciamo? Cosa per te, Anna? Ho una storia di fashion. E tu? Non lavoro. Non lavoro. Non lavoro. Non lavoro. Sì, più ha detto, sono oltreimpegnato dal lavoro, quindi non posso... Eh, beh, prima. Tu sei così. Comunque, facciamo un gioco. Chiudete gli occhi. No. Pensavo. Allora, dire di assumere l'amico per farsi fare i vestiti. Ah, lei. Ti ho disoccupata. Ok. Provate a copiarla con il tuo amico Karim, che potrebbe essere il suo... Sugar Daddy. Oddio. Dire che è gradioso che non lavora e che sei geloso. Ma che car... Che significa? Forse l'ha... Dire di assumere l'amico... Sì. Comunque lei lavorava, eh. Prima ha detto che lavorava. E infatti, pure io capito così. Per fare scena forse l'ha detto che è fumato. Bugiarda! La. La. Buona, non solo! Puoi fare una sceglione? Puoi fare tutto questo? L'acqua di Nike? Non, non. Non ce ne sono bene. Non penso così. Sceglione la sceglione? Clicchino la sceglione? Sì, c'è quello. Puoi fare un amico. Puoi fare un amico. Tu devi aiutare l'amico. Non. No, non via. No, non via. Non via. Non via. No via. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, facciamolo onesto Ok, è giusto Non mi ha detto Ah, in realtà, sono vera Voglio dirti che ha una bionda Ah, ok Ha una bionda Beh, c'è la bionda, c'è la bionda No, la bionda Scusa, ma lui non ci sta provato con questa adesso Lei ha detto che Ah, la bionda c'è una ragazza Ah, ok Vedi perché parla con te No, vabbè, dai Chiedi lei se lo so di rispala, eh Di che una ragazza Non può mai avere troppi peli Beh, quindi se lo sposerà Dile che secondo te C'è annoia con lui e che tu vuoi fare Parlo un paio di volte alla settimana Direi la bene Se lo sposerà E' un discorso tranquillo Tipo, ah, quindi sei una ragazza Che intenzioni hai Non soddisfare non Per forza da quel punto di vista Secondo me Conoscendo la moglie è il tipo Volerai visto che c'è da sotto un divano Direi la... La b La b Non parla Beh, ok Ok Allora Chiedili se... Se è possibile che lui lo picchi Cioè, aspetta Ah, eh Vabbè, perché ha fidanzato? No, direi la... Tipo, non è che il mio ragazzo La fa sì che io sto qui a parlare Ok Beh, guarda, non voglio disrespeccare il tuo ragazzo Quindi... Sì... Hai un ragazzo? No Tipo, se stessi guardando noi ora E stessermi E stessermi bene? Sì Sì? Se abbiamo parlato del film Sì, sì Sì, sì Ma il mio ragazzo È un ragazzo È un ragazzo È un ragazzo È un po' scemo È un ragazzo La nostra relazione va bene Sì 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 La nostra relazione va bene Sì 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 Ok Ci siamo Chiedi i loro piani Se vivono insieme Chiedi se si sono mai baciate E proprio non parla le bacia Ma è da Oh, no ragazzi No, dai Allora, quando gli andavo a scuola Alle superiori C'erano due ragazze che si baciavano Non erano lesbi che però si sono baciate Ma è tutta nella scuola È il sogno di ogni uomo Dai, fai i bambini Sì 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 Non C'è No, è troppo, ok? No No, no, no No, no 100% strange wad No No, never happened Tonight? No No Cause I think you should try everything Once Ah, maybe, but not snipe No I can just sit in the cupboard and watch you guys No 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 You just You're very nice girls That's good But you're also very boring It's alright Maybe Think about that Yeah Definitely You've probably been thinking that haven't you before Why don't you think about that? Alright, here we go Lesbian, freesome, blah blah blah, whatever it is Although you think that, you don't need to vocalize it Cause it can be very, very offensive Or at a minimum, just get you blown out No No Well, it was the Well, it was right It was right But maybe What do you know? Excuse me? We had to sit down No Did you make any plans for later? You can go and carry on the night? No No plans Yeah? How about tomorrow? You don't need to wake up Cause you're not working at the moment Yeah And do you need to open your shop early in the morning? Yeah You do? Yeah Okay, cool I don't really need to do anything so I can stay out Yeah You can We need to get some beauty sleep Mm-hmm I don't need it Exactly This is an important step You're finding out important logistics That will tell you how easy it is going to be Later in the evening to take one or both of the girls and do something Anche se però a queste domande mi direi Ma i cazzii tu ma quali sono? Vabbè Ma il numero Ma il numero Il numero ragazzi Suggerisci di uscire tutti insieme e prenditi i numeri Dio alla ragazzi che ti piacerebbe portarla fuori che coinvolgi l'amica Quali è difficile Ma... Questa è difficile Ma... Allora Forse tu devi uscire tutti insieme Sì Vabbè Vabbè Prendi una seconda uscita conoscerci meglio Sì perché la bimba Direi Lalaci We're using the number So if there are a couple of girls why not take their number and suggest just meeting up again Why'd you have to be so fast and choose which one you want or you know try to get that one one a day They're together right there maybe you suggest that you guys can all go hang out again Maybe you're gonna bring your friend and you can take it a little bit slower Bring these girls into your social circle and in the end it probably would work out better in a lot of cases Okay well it's great speaking to ya, I'll leave you guys here Ok, ho ottenuto quello che voglia Sì, sì Sì, sì Sì, sembra un ragazzo che è io E via, lasciate il drink come Buon drink, vabbè Risultati, molto bene Va beh ragazzi 30 euro per il 100 No, quanto abbiamo fatto prima? 41 o 43? Cioè, ho più difficoltà di fare Cioè, ho più difficoltà di fare Cioè, ho più difficoltà di fare Risposte a cazzo Abbiamo fatto più Forse è perché abbiamo scurato Forse può essere Vabbè Mentre questo nostro tizio qui parla Io ragazzi vi do appuntamento al prossimo video Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto Spolliciate, completate sotto al video Aiutatemi a crescere Condividete e al prossimo video Ciao, ciao 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 Ciao